Mancano poco più di sei mesi al momento delle elezioni amministrative previste a giugno 2024, un'attesa che Rossini TV accompagnerà con un processo graduale d'avvicinamento, quello di amministrando un nuovo programma che parte domani, martedì 21 novembre, e ogni martedì alle 21.20 faremo un passo in avanti verso questo momento che sarà curato da Antonio Astuti e Luigi Benelli. Sì, sarà un lungo viaggio verso questo appuntamento così importante per il territorio perché ci saranno 38 comuni che andranno al voto e noi vogliamo raccontarvi quelli che sono non solo i candidati ma anche i temi che andremo ad affrontare comune per comune per capire anche quali saranno le compagini che ci governeranno nei prossimi cinque anni in tutto il territorio. Prima puntata dedicata al comune di Pesero con i due fronti contrapposti, quello di centro-sinistra e centro-destra. Il format sarà sempre quello, ovviamente avremo un candidato che esprimerà una coalizione di centro-sinistra e l'altro del centro-destra o le liste civiche, a seconda se si posizioneranno nell'opposizione o nella maggioranza. Un format che ci permetterà appunto di avere un punto di vista sullo stesso argomento ma con riflessioni assolutamente diverse.